Il Trieste Calcio è diventato Scuola Calcio Milan. La società giuliana di Borgo San Sergio è passata da centro tecnico autorizzato a Scuola Calcio AC Milan, unica società attualmente del Friuli Venezia Giulia. Alla presenza del campione e bandiera del Milan Pierino Prati, la società Biancorossa ha presentato il progetto triennale che riguarderà il settore giovanile, dai lupetti, dai pulcini, esordienti fino ad arrivare alla categoria allievi. Il Trieste Calcio, società nata nel 1962, quando l'attaccante Pierino Prati realizzava in finale con la maglia del Milan una tripletta vincendo contro l'Ajax e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana, è diventata nel corso degli oltre 50 anni di storia un'importante realtà del calcio dilettantistico triestino e regionale, con un vivaio fra i più numerosi della regione. È stata una notizia per me di un giorno prima, di ieri, che ho chiamato dal Milan anche io, lavorando per il Milan come testimonia e come supervisore delle scuole calcio. Avevano bisogno, perché c'era un evento importante e era mancato quello che, mancato nel senso che non poteva essere quello che avevano proposto. Mi chiese Panza, mi disse che c'era questa cosa importante, l'uomo ideale ero io se avevo la libertà di andare. La libertà non l'avevo perché avevo un'altra scuola a calcio da andare a visitare, però mi hanno spiegato un po' la realtà di questa società e mi hanno convinto che era giusto che andassi io poi in una città dove per me nella testa avevo un ricordo un po' particolare. Sono più che volontieri di essere qui a assistere a questa società che ha grandi numeri, grande competenza, una società che sforna anche ottimi ragazzi e qualcuno è già giù al Milan. Sicuramente è stato un viaggio lungo, ma anche il ritorno sarà più tranquillo perché sarò stato in una società come piace al Milan.